Bentornati a tutti in un nuovo video di Collector Plaza Oggi finalmente posso presentarvi gli album che ho scelto per conservare ed esporre la mia collezione di pacchetti sigillati Pokémon Come vedete qua in sfondo ci sono due album, uno blu, uno rosso e le pagine Tutti accessori prodotti da un'azienda di nome Masterfill Che a noi interessa che produce queste pagine da quattro tasche trasparenti che vediamo subito meglio Vengono fornite tutte con questi cartoncini neri Come vedete qua l'ho già messi e sono piuttosto diciamo di misura giusta per non muoversi più di tanto all'interno Per cui magari farete anche un po' di fatica a metterli ma poi una volta messi rimangono perfettamente in posizione La qualità sembra piuttosto buona, c'è un buon spessore questa plastica Ma vediamo meglio anche in confronto le pagine di questi album con le pagine classiche diciamo per gli album ad anelli Per conservare le carte singole Come vedete sono un po' più piccoli per cui per forza servirà metterli in album appositi Quelli che abbiamo qua in sfondo Perché anche come buchi sono diversi rispetto che gli album classici che si usano per le carte Per cui vediamo nel dettaglio questi album Cominciamo magari dal blu, mettiamo la parte rosso Vi faccio vedere prima esternamente come si presenta Come vedete è una custodia bella massiccia esterna In cartoncino E all'interno c'è l'album Come magari avete già intravisto Sul lato dell'angolo c'è questa targhetta per poter scrivere eventuali informazioni E come noterete il colore dell'album ha un blu più acceso, più vivido rispetto alla copertina E qua sopra nella parte alta c'è questa rientranza che serve apposta per sfilare l'album Per cui diciamo un'ottima soluzione Vediamo nel dettaglio anche il rosso Che ovviamente come conformazione è uguale Ed è per farvi vedere un po' anche qua la differenza di colorazione Qua in video vediamo solo questi due ma ci sono anche verdi e neri Altra precisazione importante questa è la misura maxi Che si riferisce allo spessore proprio dell'album Ci sono anche in altre tre misure Una un po' più grande Ed altre due più piccole E questo dipende poi nella scelta importante in base a quante pagine vorrete andare a inserirci In questi qua ci stanno fino a 11-12 pagine Che io appunto qua ho messo Vediamo anche Zoomiamo un po' per vederlo meglio All'interno dell'album vedete c'è anche una striscina di metallo Che serve per bloccare le pagine in caso in cui non lo riempiate completamente Poi c'è questa pagina introduttiva E vediamo appunto le pagine che sono la cosa che ci interessa di più Come vedete vanno bene sia pacchetti magari delle prime serie Con una linguetta un po' più spessa Sia anche pacchetti di serie più recenti Consiglio ovviamente di utilizzare All'interno di queste pagine ulteriormente delle sleeve Tra l'altro vi rimando a un video uscito la scorsa settimana Che vi lascio qua sopra in scheda proprio in merito a queste sleeve qua Classiche un po' come quelle per le carte ma misura per pacchetti Consiglio anche di metterle magari con l'apertura verso il basso Proprio per inserirle poi comodamente nelle pagine Evitando che ci sia l'apertura esterna Poi si inseriscono così abbastanza comodamente E rimangono piuttosto in posizione Io consiglio come ho fatto in queste qua Di metterci magari una striscina di nastro biadesivo O qualcosa del genere In modo da tener ferma la bustina Magari in centro al cartoncino Ovviamente non lo scotch sulla busta direttamente Ma sulla sleeve In modo appunto da fissarlo qua E come vedete Anche scuotendo la pagina Le buste non si muovono per niente Altra cosa da considerare Da osservare Come vedete le buste sbordano di quel pochino Dalla pagina Ma ovviamente stanno all'interno dell'album perfettamente Ovviamente tutte protette dalla sleeve Che abbiamo messo internamente Eventualmente si possono anche mettere pacchetti Di Magic piuttosto che di Yu-Gi-Oh Cambio ovviamente su quelli di Yu-Gi-Oh Che sono più stretti, più bassi Per cui il risultato estetico sarà diverso Però il funzionamento è lo stesso Come abbiamo detto qua ci sono 12 pagine Eventualmente questi album Sono disponibili dal nostro negozio Per cui potete contattarci Tramite la pagina Facebook Collector Plaza O commentare direttamente qua sotto Nel video Fatemi sapere Se anche voi collezionate pacchetti sigillati E come li conservate Per qualsiasi informazione Trovate tutti i link in descrizione Grazie a tutti per la visione Al prossimo video